Ciao a tutti ragazzi, sono qui di nuovo nella mia Opel Astra, devo retificare all'ultimo video, non è del 2003 ma è del 2001. Inizia a far freddo davvero in Germania, ma volevo parlarvi in questo video dell'argomento macchine, ovvero tutto ciò che dovete sapere per avere una macchina in Germania. Innanzitutto dovete tenere in conto tre fattori, la prima cosa che vi arriverà sarà il bollo da pagare, il bollo io pago una cifra di circa 60 euro all'anno, varia in base alla cilindrata del veicolo, tenete presente che la mia ragazza che ha 204 cavalli paga circa 100 euro, quindi i prezzi variano dai 60 ai 100, 120 euro al massimo, questi sono i prezzi in Germania del bollo. Oltre al bollo dovete sicuramente tenere in conto di pagare l'assicurazione, i prezzi sono a livello di quelli europei, in linea, io pago circa 70 euro al mese, qui si può pagare annualmente, ogni sei mesi, ogni tre oppure mensilmente. Io ho scelto mensilmente ed è la soluzione più comoda per me. L'assicurazione, tenete presente che se nel vostro paese avevate già un'assicurazione, una classe di merito, con un certificato europeo potete farvi riconoscere la vostra classe di merito. So per l'esperienza della mia amorosa che lei aveva l'Elvezza in Austria, in Germania l'ha rifatta con l'Elvezza e le hanno riconosciuto tutte le classi di merito. Con le altre compagnie assicurative non ho esperienza diretta, però sicuramente qualche classe di merito potete farvela riconoscere. Per quanto riguarda invece il terzo aspetto da considerare è l'immatricolazione. Dovrete immatricolare la macchina, ovvero vi comprate le targhe, andate all'ufficio immatricolazioni, le immatricolate, le targhe costano circa 26 euro nel mio comune, ma varia da comune a comune, comunque la cifra più o meno è quella. Se le volete personalizzate costa sui 40 euro e vi potete scegliere la targa che volete, in base a quelle disponibili ovviamente. La targa per il prossimo veicolo che acquistate è vostra, personale, quindi la staccate e la riattaccherete nel veicolo che andrete poi a comprare in seguito. Infatti una cosa che mi aveva stupito molto è il fatto che qui in Germania non c'è il passaggio di proprietà. E questa era un'ottima cosa, perché vi dico che avevo pagato per la Peugeot, per cui avevo fatto il passaggio di proprietà in Italia, quasi 560 euro. Quindi una spesa abbastanza importante. Qui il passaggio di proprietà non si paga. Questo per quanto riguarda il fattore immatricolazione. Però volevo parlare di chi ad esempio ha già la macchina e vuole venire qui con la sua macchina. Quindi cosa deve fare per immatricolarla? Diciamo che la procedura è abbastanza semplice. Andate in un centro TUV, che sono questi centri che fanno la revisione della macchina. Vi chiederanno sicuramente i dati tecnici della macchina, che dovreste avere quando l'avete comprata. Il vostro concessionario solitamente dovrebbe darveli in formato europeo. Se non li avete, non preoccupatevi. Potete richiederli nuovamente alla casa madre, basta che andate in un concessionario qualsiasi della vostra auto. Oppure potete direttamente, quando siete alla TUV, dire a loro di occuparsene. Costa circa, compresa la revisione, sugli 80 euro. Loro hanno questo certificato, possono farvi la revisione. Vi staccheranno le targhe e vi rilasceranno un foglio che dice semplicemente che la macchina può essere guidata in Germania rispetto agli standard. A questo punto voi con questo foglio e con le targhe andate all'ufficio di matricolazioni, consegnate le targhe italiane o di qualsiasi paese, comunque europeo, da cui volete matricolare la macchina. So che in alcuni casi vi lasciano le targhe e le dovrete poi ridare in Italia. In altri casi, so per l'Austria di per certo che si possono spedire direttamente in Austria senza dover andare là di persona. Comunque, in ogni caso, andate all'ufficio di matricolazioni, col vostro foglio in cui dice che la vostra macchina si può guidare in Germania, vi immatricoleranno la macchina e andrete all'ufficio targhe, che solitamente è in parte. Le targhe costano circa, come dicevo prima, sui 26-27 euro, potete anche sceglierle appunto. E una volta che avete le targhe, andate all'ufficio di matricolazioni nuovamente, date il vostro numero di targa, tornate al TUV e potete attaccare le vostre targhe sulla macchina e la macchina a quel momento è immatricolata in Germania. Altri costi a sostenere per la macchina sono la revisione, ogni due anni, costa circa sugli 80 euro ed è quel bollino che vedete sulle targhe tedesche. L'altro bollino indica invece la regione della macchina, ogni regione, ogni land ha il suo bollino. E questi, diciamo, sono i costi da affrontare per immatricolare una macchina in Germania. Nei prossimi video parlerò dei prezzi delle auto usate, nuove, dei prezzi della benzina e di tante altre cose. Un saluto, ciao! Ciao!